Ursi, Madonna di Anglona, concerto dei Mattia Bazzarro, canta Laura Dragoglieri, e chiamando i due morgai, non la soli mi odore così, la strada è stille, e perché non finisca mai? Quando non sento ancora io, ogni età in amore, e se il mio solito mi merino, La mitica formazione degli anni settanta Ibadia Pazar a Tursi Sanquario di Anglona Per la festa della Madonna di Anglona Patrona della diocesi di Tursi Lago Negro Patrona della diocesi di Tursi Sanquario di Anglona Patrona della diocesi di Tursi Sanquario di Anglona Patrona della diocesi di Tursi Sanquario di Anglona Nella venta originaria con i mali cambiamenti E' rimasto Fabio perversi La mitica formazione degli anni settanta La mitica formazione degli anni settanta La mitica formazione degli anni settanta La conoscenza degli anni settanta La conoscenza degli anni settanta La conoscenza degli anni settanta Come va? Come va? Come va? Come va? Come va? Come va? Laura Dragonieri, l'attuale cantante dei Mattia Bazzaro. Ricordiamo Sonetta Ruggeri, Laura Malette, Silvia Mezzanotte. Torsi, l'attuale cantante dei Mattia Bazzaro. L'attuale cantante dei Mattia Bazzaro. L'attuale cantante dei Mattia Bazzaro. Non fa parola. E da lui c'è tutto. Arrivederci.